exoratics eccoci qui oggi con questa stupenda seat leon bianca station wagon vettura dotata di fari full led con fin di nebbia cerchi lega da 16 la vettura è lunga circa 4 metri 64 larga 1 79 e alta 1 45 barre sul sul tetto comode per allestire un po di tutto tra supporto supporti bagagliaio scismo e tutte quelle cose di sensori posteriori andiamo a vedere la capienza del bagagliaio bagagliaio con una capienza di 620 litri e ne andiamo a recuperare 1600 andando ad abbattere i sedili posteriori andiamo nella parte posteriore della vettura entrando troviamo una vettura comoda spaziosa non ci sono problemi non siamo vincolati appunto nel muoverci o nel metterci comodi andiamo nella parte anteriore vettura super accessoriata quindi cristalli elettrici sia anteriore che posteriori dotata di virtual cop kit quindi tutta la strumentazione in digitale display ampio comandi al volante palette al volante ovviamente vettura cambio automatico fari automatici diciamo che c'è poco da toccare quando si sale su questa vettura quindi bene o male fa è già attrezzata di tutti gli ultimi optional ha un po di tutto ovviamente start and stop freno a mano automatico chiusura centralizzata automatica ho detto anche per i vari documenti è bello capiente bello spazioso dentro ci si muove bene e questa vettura la trovate in pronta consegna per qualsiasi informazione non esitate a contattarci o venite a trovarci direttamente a bar zago in provincia di lecco 30 chilometri a nord di milano o se volete visionarla sul sito andate su ratix.com exolattics exolattics